Salve a tutti amici di Amazon, perdonatemi ma oggi sono senza treppiedi e quindi dovrò fare un video un po' movimentato dato che dovrò utilizzare una mano per sorreggere lo smartphone e un'altra per farvi vedere il prodotto comunque questo è il prodotto che ho richiesto oggi è uno sacchiotto con delle rose, le dimensioni del pacchetto sono 18 cm di larghezza abbiamo all'incirca un 27 cm per quanto riguarda l'orsetto di altezza e di profondità come vedete eccolo qua, lo mostro anche di lato abbiamo la parte più larga dell'orsacchiotto, siamo sui 17 cm comunque era un po' scettico per quanto riguardava questi orsacchiotti che giustamente vorrò regalare alla mia fidanzata per San Valentino però devo dire che tutto sommato lo sacchiotto è veramente molto carino ho preso il colore rosso vine, non il rosso acceso perché volevo qualcosa di un po' più utilizzare la parola più serio, mi pare un colore più serio per un evento come San Valentino perché il rosso mi sembra un po' troppo invece volevo qualcosa di più elegante ecco elegante è la parola giusta ecco quindi ho deciso di prendere questo colore qua ok e come vedete avete questo bellissimo pacchettino che potrete appunto fare un piccolo potete avvolgerlo come un regalo ok e poi in dotazione anche adesso vi mostro non vorrei aprirlo però avete anche non so se si vede avete quei fili lì e quel contenitore lì dove lì nel contenitore va messo vanno messe le batterie e come si dice il filo lì sarebbe un filo led che potete appendere o in camera oppure appendere all'orsacchiotto ok e metterla un po' appesa all'orsacchiotto comunque come vedete le rose sono veramente molto carine ben fatte ok non mi pare di vedere qualche difetto sono una più bella dell'altra veramente un prodotto carino poi abbiamo anche lì sopra una coroncina con delle perle quindi tutto sommato dettagli ne ha molti e quindi devo essere molto contento perché veramente si presenta molto molto bene molto molto bene quindi spero che la mia ragazza piaccia a San Valentino mi sono preso un po' avanti e questo qua lo otterrò per regalarglielo ecco decisamente un bel pensiero una persona che si ama e poi sicuramente da appoggiare magari sulla scrivania o su una mensola magari vicino a qualche foto per me potrebbe essere un buon posto dove metterlo ecco spero che questo video vi sia stato d'aiuto vi aspetto qui sotto con la recensione iscritta e niente buon San Valentino quando sarà a tutti quanti io sono Thomas il vostro caro amico di Amazon ciao ciao un prossimo video e una prossima recensione